In realtà la rissa è partita in un altro bar, accanto, per altre persone, che quando sono usciti questi ragazzi di quest'altro bar hanno spaccato dei vasi e giustamente il gestore del bar si è risentito di questa vicenda. E questa la versione dei quattro giovanissimi finiti in manette alcuni giorni fa per la maxi-rissa in piazza San Francesco ad Arezzo. Dunque, secondo i ragazzi, arrivati in città per festeggiare un compleanno, a scatenare il parapiglia non sarebbero state le richieste di un ultimo drink negato, ma la rottura di un arredo di un locale. Sembrerebbe che il flusso venente che veniva da quel bar le abbia completamente travolti. Uno tra l'altro è inciampicato e questi altri ragazzi che sono stati aggrediti da questo flusso di persone, mi immagino un fuggifuggi generale, anche loro si sono... e sono stati fermati, tanto è vero, dietro la via, la via di Città Selpino che va in salita dei Carabinieri. Tutt'altra la versione invece che aveva raccontato ai nostri microfoni il titolare di un locale della centralissima piazza. In evidente è stato alterato, io mi sono rifiutato di somministrargli da bere, poi è successo quello che è successo, sono usciti e hanno cominciato a infastidire clienti e passanti. A raccontare cosa è successo lunedì pomeriggio erano stati anche i video dei residenti che avevano immortalato una piazza letteralmente fuori controllo e poi la fuga generalizzata. Infine l'arrivo delle forze dell'ordine che avevano fermato i quattro giovani in evidente stato di ebrezza alcolica, circostanza adesso negata dai ragazzi. La comprova del fatto che non ci fossero problemi di alcol, che quando alle una di notte sono usciti dai carabinieri, dal comando stazione carabinieri, hanno ripreso le loro macchine e sono ripartiti. I quattro, accusati di rissa aggravata subito dopo l'arresto, sono stati rilasciati. Ovviamente però ciò non toglie che l'indagine a loro carico vada avanti.